È passato il ferragosto, tra poco inizieranno le scuole, anche gli asilo e purtroppo tanti bambini dovranno aspettare e attendere una risposta dal comune per sapere se potranno accedere proprio a queste prime istruzioni infantili. Sì, in bilico ci sono 180 bambini le cui famiglie non sanno se potranno avere garantito il loro diritto alla formazione e all'educazione. 180 famiglie che quindi non sanno quale sarà il loro futuro rispetto a questa questione. Non è negli ultimi anni mai successa una cosa del genere e quando ero assessore in Regione già dal 2017 avevo, grazie a dei fondi nazionali ma anche regionali ma anche comunali, garantito l'abbattimento delle liste d'attesa su tutti gli asili comunali. Oggi questo non è più così, non è più una realtà per cui ci sono in bilico 180 persone. Mancano 190 mila euro. Noi facciamo un emendamento durante la sessione del bilancio per garantire, per spostare questi 190 mila euro sui nidi affinché appunto tutti i bambini pescaresi potessero andare al nido ma la maggioranza bocciò questo emendamento dicendoci che avrebbero in qualche modo trovato i fondi. Cosa che non hanno fatto. Quindi come ha ben detto lei, fra un po' ricomincia la scuola ma soprattutto anche le mamme e i papà ricominciano a lavorare e i bambini non ancora sanno se potranno usufruire di questo servizio. La Regione fa delle scelte, ha dato dei fondi ad altri e non ha messo i fondi sui nidi. Quindi è una scelta politica quella di lasciare i bambini a casa. Purtroppo dal 27 luglio noi non abbiamo avuto alcuna risposta dal comune. Abbiamo continuato a mandare email e attendiamo ancora la risposta ma siamo ancora in lista d'attesa. Ci sono 180 famiglie in questa situazione che hanno bisogno anche di una continuità didattica poiché i bambini hanno iniziato l'anno scolastico l'anno scorso e ovviamente lo dovrebbero proseguire nella stessa struttura. Ma senza la convenzione del progetto il nido diritto dei bambini non siamo in grado di assicurare loro questa continuità in quanto le rette dei nidi privati a Pescara si collocano al secondo posto in Italia dopo Milano. Quindi sarebbe quasi impossibile mantenere i bambini a degli assidi nidi privati. Esattamente, specialmente per le famiglie monoreddituali la spesa è inconcepibile. Si arriva in alcune strutture private anche a tetti di 700 euro.